Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Pisa, code per incidente tra Navacchio, Visignano e Pisa Nord-Est per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. A Firenze, a causa di alcuni problemi tecnici, il servizio della tramvia potrebbe subire dei rallentamenti. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!